Era la notte del 2 dicembre 1943 e Attilio aveva da poco compiuto 18 anni. La guerra dopo l'armistizio sembrava stesse finendo e invece, come ci spiega lui stesso, quella vera per l'Italia doveva ancora iniziare. Da giovane soldato viene inviato in Puglia, nel porto di Bari, proprio quella notte. Dagli aerei tedeschi vengono lanciate centinaia di bombe, un attacco senza precedenti, con 17 navi anglo-americane distrutte e altre 8 gravemente danneggiate, udite le esplosioni. Attilio, che si trovava nella stiva di una di queste imbarcazioni, sale in coperta e in quel momento che un'altra deflagrazione lo scaraventa sotto un vagone ferroviario, probabilmente deve a questo la sua salvezza. Alla fine il bombardamento causerà oltre mille morti. Attilio Zullo, oggi neocentenario, ricorda chiaramente ogni dettaglio di quella storia una volta finita la guerra, fa ritorno nella sua isernia ed è qui che pone le basi per creare una famiglia meravigliosa, la stessa che oggi ha voluto festeggiare il suo secolo di vita, incontrata Salietto. C'erano proprio tutti, la sorella, i tre figli, i sette nipoti e una miriade di pronipoti. Nato il 19 novembre 1924, ha vissuto una vita semplice, circondato dall'affetto dei suoi cari ed è probabilmente questo il suo segreto, la longevità del resto è una questione di famiglia. Mio fratello è arrivato a 102, mio soggio è arrivato a 105. Auguri, amore a tutti e pure a me di superare, di andare oltre. Alla cerimonia, oltre al sindaco Castrataro, anche tanti amici tra di loro. Non c'era Michele Montagano, eroe molisano, spentosi recentemente, ricordato per la sua esperienza in un lager nazista per essersi rifiutato di combattere con la Germania. Con lui più volte si è confrontato sull'atrocità delle guerre. Oggi a Tidio, da neocentenario, visto quanto sta accadendo nel mondo, guarda al presente e al futuro con una certa preoccupazione, ma con la speranza che l'amore possa salvare il mondo. Mi piace di vivere e di guardare il mondo, che il mondo sta fatto una cosa troppo male.